Musica Musica Gatti Per l'1-0 Juve Gatti 73esimo Il vantaggio della Juve Sottomisura Gatti 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 Federico Gatti Federico Gatti Federico Gatti Fatti fino a aver seguito il resto di due L'avete fatta finalmente Dopo porco duro Si nooo Gatti 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 E' buono Merde Oh Gatti 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 gt Gatti Ce l'abbiam Fatta Tre up Se l'ha effettata Gatti Gatti E'ultimo Aguafi El CEO Lascia Gatti Gatti Gattone, vieni Gattone, orca miseria, ho sbagliato il gollo, lì subiamo a segnare, vieni Gattone. Che godurio a Federico Gattone, il Gattone, l'energia vecchio, noi di questo avevamo bisogno, l'energia giusta, il Gattone che segna, 1-0 Juve, 1-0 Juve. Gol? È gol. Oh, goduria. C'è! Gatti! Gatti! Furto con scasso a Lions Stadium, il gol di un giocatore che è meraviglioso, il gol di un giocatore che è meraviglioso. Vabbè, voglio, mamma mia, voglio sta squadra tenne un culo veramente, ma io non lo so, eh. Tenne un mazzerut sta Juve, mamma mia. Gaggara, gaggara, gatti. Sono tratto a Rosano con Ferbo. Semifinale, Juve United, ufficiale. Ehi! Federico! Che poi sempre loro, sempre loro due, sempre loro vicino Gatti. Il giocatore è più in forma, più in forma della Juve. Meritato, meritato. Meritatissimo. Dai, buona attiva, andiamo. Dai, cazzo, buono, così. Comunque, la strada sulla linea. Sì, cosa aveva preso, dai. È assurdo, poverino. Allora, cazzo, guarda, cazzo, la presa. Guarda se è la caduta. Andiamo. Dai, ragazzi. Ma ha segnato Gatti che tira un pugno allo stiuolo. No, vabbè, quasi. No, vabbè, cazzo. Però, però, è una papera del portiere, però è stato bravo pure Vlauci, che l'avevessi in porta. Però, dico... Teniamo, riusa! Ma, ma, ragazzi, ma qui non si può parlare di bravura. Una squadra che continua a cercare di segnare in queste condizioni. Non ha capito nulla. Non hanno capito nulla. Ho visto bene, ho visto bene che è stata una cazzata del portiere. Ha segnato ringhio. Ha segnato ringhio. Avevo visto bene che è stata una cazzata del portiere. Sì, sì, il portiere è uscito male. Poi è un rimbalzo. Una cosa, ragazzi, una cosa, una cosa... Squallida, veramente, una cosa squallida. Oh! Gatti! Gatti! Catti! Gatti! Gatti! Catti! Miau, miau! 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 Io ripeto, io ripeto in gatti i chiellini di grandi tempi. Non bestemmiare! Non bestemmiare! ragazzi ma guardate il gol che abbiamo fatto gatti gatti il portiere esce io non ho parole cioè è a ruolo del portiere a ruolo del difensore lasciamo stare pure io senza occhiale l'avrei buttata dentro pure io senza occhiale l'avrei buttata dentro gatti gatti questo qui è che gol del chezzo che gol della minchia bravo vicio gatto 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 adesso arriva il 2 a 0 di Rabiot no no perché siccome questa partita vale tre punti in classifica ci accontentiamo del 1 a 0 ma che capre che il 2 a 0 serve per la partita di ritorno ma che vai vicino alla bandierina a 30 secondi dalla fine ma siete una squadra squallida ma cosa devo dire che siete imbecilli ma io non lo so ma che cazzo significa andare vicino a bandier ma non è una partita da tre punti che idioti ma io non lo so aspetta che sto parlando di ora non so più che cosa devo dire guarda non so più cosa devo dire devo dire che se lo meritano allora di subire il pareggio e l'arbitro non ha fischiato terminato il terzo minuto vai con il cross come il gran calcio a cose sul tavolo vergognati ma guardi ma guardi che cose sul tavolo e cose sul tavolo e ma guardi